Musica Ben trovati, nuovo appuntamento oggi speciale perché è tempo di bilanci, è tempo di fine anno. Buonasera al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Buonasera, grazie dell'invito. Oggi è stata presentata l'attività di questi cinque anni di mandato. La prima domanda è ovviamente scontata. Che bilanci possiamo fare in questi cinque anni? Abbiamo visto fra l'altro un video molto bello realizzato dalla Regione, coordinato dal direttore di ARC, Demetrio Filippo Damiani. Un video molto intenso che ha ripercorso cinque anni che non sono stati facili, possiamo dirlo? Sì, devo dire che sì. Il video è voluto proprio testimoniare che abbiamo amministrato dentro un susseguirsi di emergenze. Ovviamente la più drammatica è quella del Covid, ma penso a Vaia, penso agli incendi, penso al caro energia, penso all'aumento dei costi, delle materie prime. Penso alla guerra in Ucraina, penso agli incendi, penso alla siccità, insomma una serie di emergenze che però non hanno fermato l'azione amministrativa. Io ho voluto presentare in conferenza stampa dei numeri, perché dopo le opinioni ovviamente mie sono oggettivamente di parte. Perché se il Presidente di questa Regione ovviamente sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, però i numeri testimoniano che i risultati ci sono stati. Abbiamo il più alto tasso di occupazione da quanto esistono le serie storiche Istat, quindi aumentata l'occupazione, malgrado quello che abbiamo visto. Quindi migliori performance di altre legislature dove invece è stata fatta un'attività ordinaria. Abbiamo il minor differenza di occupazione tra uomini e donne, quindi è migliorata l'occupazione femminile. E oltretutto è migliorata anche il tasso di attività della popolazione femminile. Quindi non è che è diminuita la disoccupazione, ma sono aumentate le donne inattive. Quindi sono dati positivi. Siamo la Regione che nel 2021 è cresciuta in più in termini di PIL. Abbiamo aumentato le risorse a disposizione del sistema regionale in modo consistente. Pensiamo solo che con i nuovi patti e con lo Stato andiamo a garantire ai cittadini di Florenza Giulia maggiori risorse per 2 miliardi di euro in 5 anni. È stato questo lo strumento che vi ha dato la possibilità di riuscire a mantenere un tasso di occupazione, insomma, lavoro in un periodo difficile oggettivamente? Secondo me è un circolo virtuoso. Perché ovviamente avendo delle risorse che uno può indirizzare, per esempio per aiutare le imprese nei momenti di difficoltà, penso siamo la Regione che è proporzionalmente aiutato di più in termini proprio di milioni di euro le imprese durante il Covid. Avere a disposizione risorse per fare misure strutturali cosa fa? Fa crescere il PIL. Fa crescere il PIL aumentano le entrate della Regione. Aumentando le entrate della Regione abbiamo più risorse da riversare nuovamente sulla Regione. Quindi è un circolo virtuoso che si è autoalimentato, sicuramente partendo dal primo patto che ho fatto nel 2019 con il Ministro Tria. La Regione Florenza Giulia doveva dare allo Stato in più circa 830-840 milioni di euro. Noi l'abbiamo diminuito subito di 100 milioni di euro all'anno, portando a casa 400 milioni di euro di investimenti e 80 milioni di euro di investimenti per la sanità. Nel nuovo patto del 2021 siamo andati invece quasi a dimezzare le risorse che dobbiamo dare allo Stato per il saldo di finanza pubblica, arrivando appunto a quei 2 miliardi. Per spiegarlo a chi ci guarda a casa, il bilancio della Regione era una volta un bilancio da 6 miliardi di euro. Cioè questo è il costo che ha la Regione. Poi nel corso degli anni con la crisi, i monti, insomma eccetera eccetera, se non sbaglio la sua prima finanziaria era intorno ai 4 miliardi e 2 circa, vado un po' a memoria, 4 miliardi e 2 che però sono praticamente solo la spesa corrente, cioè non avevate margini per investimenti. Oggi siamo a 5 miliardi e mezzo. Quindi avete un margine di poter investire, investire significa ridurre le tasse, aumentare i servizi. Quindi uno dei temi che è venuto fuori molto prepotentemente è stata la legge sulla famiglia, perché Friuli, Mezza e Giulia è una delle Regioni che ha il più basso tasso di natalità. È una Regione vecchia, possiamo dire, è una Regione anziana. In questo senso è stato quello un altro elemento che ha piacere di ricordare in questi 5 anni di bilancio, gli interventi a sostegno delle mamme, dei bambini? Sì, penso che la norma sulla famiglia, la norma quadro sia uno dei cuori di questi 5 anni, non l'unico, ma uno dei cuori principali di questi 5 anni di gelatura. Abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse sulla famiglia, portando misure come il contributo sugli asili nido, oltretutto per le famiglie fino a 50 mila Euro di sé, quindi sono misure non per la povertà, ma per la famiglia. A questi si sommano i contributi che diamo, per esempio, alle strutture per gli asili nido, per tenere più basse le rette, per i costi strutturali. Abbiamo fatto, per quanto riguarda il diritto allo studio, un ente unico che garantisce le risorse che va dalle scuole all'università, oltre agli alloggi classici, ma riusciamo a garantire anche, per quanto riguarda le scuole, i contributi. Anche questo siamo l'unica regione in Italia ad averlo fatto. Abbiamo fatto la dote famiglia. Abbiamo dato i contributi, che oggi si è inserito nella dote famiglia, ma negli anni prima erano autonomi, inseriti sempre da noi, per i centri estivi, per le mamme e papà che lavorano durante l'estate, avere un contributo per mandare i figli ad attività. C'è questa difficoltà? Lei ha due figli, non è un segreto. È difficile oggi conciliare, visto che sia il papà che la mamma lavorano, è difficile proprio anche la gestione dei figli, al di là del costo? È cambiato totalmente la struttura sociale. Mentre una volta esistevano quelle famiglie allargate, dove c'erano gli zii, dove c'erano le nonne, dove vivevano tutti magari nel nostro posto, quindi si aiutava vicinevolmente, oggi la struttura sociale, non a livello fruvenza giuglia, ma a livello globale, occidentale, è totalmente cambiata. Ci sono coppie di genitori che vivono in città dove non hanno parenti, dove non hanno aiuti, e quindi tutta la rete sociale che si può creare per dare una mano contribuisce. Non c'è dubbio che poi non bastano le risorse che abbiamo messo, non bastano i contributi, non bastano questi interventi. Penso che dovremmo anche pensare a un processo culturale, che oggettivamente è deficitario per valorizzare quello che è la famiglia, l'importanza che è la famiglia per una comunità. E lei come riesce a godersi la sua famiglia? Questa è un'intervista dove parliamo un po' di tutto. Poco. Questa era la domanda. No, poco. Devo dire che l'impegno ovviamente lavorativo e da presenti di Regione è molto alienante rispetto alla famiglia. Cerco di concedermi del tempo per stare con i miei figli e con mia moglie, obbligando anche ovviamente a ricavare quegli spazi. Però è chiaro che poi esistono le emergenze, esistono gli imprevisti che condizionano molto la vita familiare. Con suo moglie però siete da tanti anni insieme, giusto? Beh, insieme siamo abbastanza per il 2008. Ci siamo sposati nel 2013. Quindi quando ancora non era... No, parlamentare 2008. Sì, ma non era ancora parlamentare. Non era ancora parlamentare. E poi ci siamo sposati nel 2013 e nel 2014 abbiamo avuto il primo figlio. Quindi, insomma, sapeva a cosa andava incontro? Sì, ma non è mai pronto uno. Era felice quando l'hanno eletto presidente di Regione. Sì, però sapeva che l'impegno sarebbe aumentato rispetto a parlamentare. È vero che parlamentare si svolge a Roma, però oggettivamente l'impegno da presidente di Regione non è paragonabile a quello di un parlamentare. Questo è che abbiamo aperto un po' la sfera personale. Non entreremo troppo nella sfera personale, ci mancherebbe. L'ha ricordato nel video che abbiamo visto durante la conferenza stampa. Lei ha iniziato nella Lega fin da ragazzo, insomma già ai tempi delle medie se non ricordo male. Volantinaggio, era una Lega che era al 2%, aveva avuto un boom all'inizio, però poi è stato un partito nel centro-destra tra i meno, che raccoglieva meno voti. E poi c'è stato l'Espluat con anche la sua vittoria in Regione, una vittoria pesante a livello numerico. Cosa pensava Federica Bambino quando iniziava l'avventura politica? Non pensavo che mai sarebbe diventata così coinvolgente l'attività politica istituzionale. Mi sono detto alla Lega, lo raccontavo appunto nel video facendo volantinaggio e pensavo che fosse una passione che sarebbe stata un'attività minoritaria rispetto a quanto avrei fatto nella vita. Che è il marketing, no? Lei si è lavorato in marketing. Facevo quello, dopodiché eventi fortuiti anche, perché devo dire che io nel 2008 sono stato eletto in Parlamento, non me l'aspettavo. Con i resti, perché c'era la legge? Sì, in realtà no, abbiamo fatto un buon risultato come Lega, superiore all'aspettativa. Abbiamo letto due parlamentari a Frevidenza Giuliano Nune e il secondo è entrato, sono stato io. Dopo ho seguito tutta la parte lavoro, che non volevo seguire da Roma, ma questo mi ha permesso di diventare l'unico referente del lavoro per il mio partito, lavoro Previdenza. E quindi anche questo mi ha dato centralità a quell'epoca, perché c'era bisogno che qualcuno lo seguisse. Quindi sono stato ricandidato nel 2013, anche in quel caso, Matteo Salvini mi ha voluto fare capogruppo, e quindi anche quella è stata un'esperienza importante che mi ha permesso poi anche di essere maggiormente conosciuto sul mio territorio, in Frevidenza Giulia, e di avere quindi quella capacità anche di fare una campagna elettorale nel 2018, con la consapevolezza che le persone mi conoscevano e mi avevano potuto valutarmi. E ero un po' costretta anche a correre come Presidente? Un po' costretta forse non nel termine... No, però non volevo fare il Presidente Regione, io l'ho detto fin da... io non avrei mai pensato, mi ero abituato e mi piaceva anche, devo dire, l'attività politica nazionale a Roma. Avrei paradossalmente potuto fare Ministro in questi cinque anni? Sì, avrei potuto. Sarebbe durato poco, perché insomma abbiamo visto tre governi in cinque anni. Però invece devo ringraziare, perché infatti ho imparato questo, nella politica non bisogna mai farsi un'idea e fostitizzarsi su quella, perché poi ci sono delle opportunità che magari si creano, che uno non si aspetta perché non le conosce, in realtà io ringrazio moltissimo di aver avuto l'opportunità di fare il Presidente Regione. Sono conosciuto molto, secondo me, dal punto di vista professionale. Amministrativo anche. Mi ha insegnato moltissimo, ho imparato veramente tanto, cose che non sapevo. E forse anche dal punto di vista umano sono cambiato. Cioè fare l'attività di governo rispetto a fare un'opposizione parlamentare, o comunque l'attività parlamentare, che è molto teatrale in sé, perché bisogna andare per forza allo scontro, invece di diventare molto più operativo, fa anche cambiare un po' la prospettiva. Abbiamo due minuti, poi sa che le TV hanno bisogno anche della pubblicità. È doveroso. Però le volevo fare un'ultima domanda, prima di andare in pubblicità, perché poi entriamo su un tema molto complesso, che è stato quello del Covid. Ho letto una recensione al suo libro su Amazon, anzi è ancora disponibile in vendita, e un'elettrice diceva che è passato da essere molto leghista a una versione più moderata della Lega, cioè a un modo di fare politica diverso, e in questo lo vedeva in maniera positiva. È cambiato anche il modo di fare la politica, una politica forse, magari a Roma non troppo, però una politica un po' più elegante, una politica che l'uno vale uno, magari non ha avuto questo impatto così importante nella vita delle persone. Sì, ma io lo dico nel libro, in questi cinque anni sono cambiato. Sono cambiato nel senso che mi sono reso conto, per esempio, che lo scontro politico, è salutare, idee diverse, meno male che ci sono, altrimenti saremo in Russia o in Cina. Parlavo dei toni, eh, ovviamente. Sì, sì, no, infatti, saremo in Russia o in Cina, quindi anche uno scontro anche acceso va bene, però è fondamentale, e di questo mi sono reso conto, e magari delle volte anche quando facevo il parlamentare, dicevo delle cose senza rendere conto anche delle conseguenze personali che uno può avere. Cioè non si può sempre andare, e purtroppo avviene troppo spesso nella politica italiana, sul personale. Ci sono offese, denigrazioni, delle eccitimazioni personali. Uno che la pensa in modo diverso, giustamente uno deve combattere per la propria idea, perché ritiene che sia quella giusta, ma non può mettere sul ring la persona, delegittimare l'altro. Quindi uno, è il concetto che purtroppo nella politica italiana c'è, che non è che uno contrasta un'idea, ma fa passare il messaggio che la persona che la esprime non è legittimato ad esprimere un'idea, ed è gravissimo. Uno può contestare quell'idea, ma tutti sono legittimati ad esprimere un'idea, e quell'idea si può giustamente combattere, perché non se la ritiene giusta. Noi siamo arrivati invece in un momento nel quale si va talmente a denigrare dal punto di vista personale, poi parlando di cose che non c'entrano nulla con quell'argomento, per denigrare la persona. E noi dobbiamo finirla con questo, perché penso che sia un danno che facciamo, e che a cui abbiamo drammaticamente abituati i cittadini. Bisogna denigrare, ma invece bisogna discutere anche immediatamente. Ci fermiamo un attimo, per la pubblicità, questione di pochi minuti, e poi torniamo in studio con il Presidente della Regione. Bentornati, allora Presidente, l'abbiamo detto prima della pubblicità, dobbiamo aprire il capitolo Covid, perché comunque è stato purtroppo il protagonista in questi cinque anni. Lei ha ricordato comunque la riunione in cui avete deciso di chiudere le scuole, e penso sia stata una decisione difficile. Siamo stati la prima regione in Italia, se non ricordo male, le scuole erano chiuse per carnevale, non hanno mai più riaperto. Sì, insieme a Veneto, Lombardia, però dopo ci sono stati Focolai, e l'Emilia Romagna. Abbiamo fatto questa riunione, ricordo, a fine febbraio, dove la Regione Frevenza Giulia, nelle intenzioni iniziali del governo, non doveva essere coinvolta. Però io spiegai al tempo al Ministro Speranza che alcuni comuni del Frevenza Giulia erano più vicini a Vò, che era il focolaio Veneto, rispetto ad altri comuni del Veneto stesso. Quindi non è che il virus dice, no, andiamo nella Regione di Federica, ci fermiamo e non andiamo a contagiare. Quindi abbiamo deciso di intervenire in modo anticipato. Una scelta sicuramente difficile, perché noi quella settimana non avevamo rilevato contagi. Probabilmente c'erano, ma non avevamo le capacità di testing che oggi abbiamo. Siamo passati da due tamponi al giorno a chissà quanti oggi. Esatto. Quindi là ci troviamo e tutta la settimana di fatto non viene fuori un contagio. Quindi c'era anche una risposta delle categorie economiche che legittimamente dicevano ma cosa sta facendo Federica? Li avevo incontrati oltretutto qua in Regione. Sabato vengono fuori della prima settimana di chiusura i primi tre contagi. Domenica mi ritrovo nel mio ufficio insieme al Vice Presidente Riccardi e l'Assessore Rosolenne dopo aver fatto quella scelta con quell'ordinanza sottoscritta insieme al Ministro Speranza a decidere cosa fare. Il Ministero mi dice noi non facciamo più ordinanze se vuoi te la fai da solo, in sintesi. Insieme agli Assessori incominciamo a fare parole di chiamate ma anche la parte scientifica all'inizio conosceva pochissimo il virus. Quindi qualcuno mi diceva chiudi, qualcuno dice no pazzo, cosa vai a chiudere? E pressioni di qua, pressioni di là a un certo punto veramente il ragionamento che abbiamo fatto è stato domani i miei figli li manderei a scuola mi sento tranquillo li mando a scuola e ho detto non li manderei a scuola e allora ho fatto l'ordinanza e ho proseguito con le chiusure. Poi ricordo che ci avete convocato a conferenza stampa è stato, se forse anche noi avevamo sottovalutato all'inizio l'impatto, noi giornalisti insomma. Ma tutti, ma voglio dire tutti, io vi ricordo che c'era però io voglio ricordare una cosa eravamo usciti qualche settimana prima io insieme al presidente Fugatti del Trento insieme al presidente Zaia del Veneto insieme al presidente Fontana della Lombardia dicendo state attenti chi torna dalla Cina non facciamolo rientrare a scuola facciamo una sorta di quarantena per il rischio eravamo stati riempiti di insulti dandoci dei razzisti. È stato un periodo difficile sì, però voglio dire io ricordo poi un'altra cosa che non c'entra con noi però voglio ribadirlo il presidente Fontana il presidente Fontana ma vi ricordate quel video dove si è messo la mascherina che è stato denigrato a livello globale dicendo vergogna metti la mascherina denigri l'Italia per quello dico e rispetto anche al discorso che facevamo prima della pubblicità utilizziamo un po' di buonsenso nel senso di avere questi attacchi feroci, personali denigri uno può dire poteva starcela la confusione del momento ma incominciare a colpevolizzare personalmente il presidente Fontana non dicendo la scelta è giusta o sbagliata quello che fai i risultati sono che poi sono stati smentiti sono fatti una figuraccia Con Conte come è andata? Per Conte presidente del consiglio io non oso immaginare cos'era Roma in quei giorni anche l'idea di chiudere un paese insomma non deve essere stata una scelta facile al di là delle questioni politiche c'è stato un dialogo c'è stato un confronto cioè lo Stato la macchina Stato ha reagito bene nell'incertezza sul Covid ci siamo sempre dato un confronto delle volte con tutte le regioni e parlo anche in qualità di presidente della conferenza delle regioni ci siamo sempre dato un confronto delle volte che vedeva un'animità di vedute delle volte che ha visto anche una reazione delle regioni io penso quando col presidente Conte nel maggio 2020 abbiamo fatto le linee guida per le riaperture perché il governo non voleva riaprire durante l'estate ci sfidò il governo come sistema delle regioni e disse vediamo se riuscite a fare una cosa condivisa perché al tempo vi ricordate ogni regione aveva le sue misure allora facciamo la conferenza delle regioni e decidiamo facciamo il minimo comune dominatore poi se qualcuno vuole fare delle misure più restrittive le fa però troviamo il minimo dominatore ce la facemmo in pochissimo tempo in qualche ora dopodiché le mandiamo al governo il governo non ci diede una risposta a quel punto mi ricordo c'è stata una tensione fortissima abbiamo convocato con la presenza del presidente Conte una riunione a luna di notte di quel giorno con le regioni che diciamo erano decisamente accese esatto perché avevamo superato la sfida così e allora passò e fu inserito nel dpcm del tempo anche le linee guida richiama le linee della regione che hanno permesso in quell'estate 2020 sono state una boccata di ossigeno fondamentale perché dopo non avremmo saputo cosa sarebbe successo in autunno che sarebbero state le future richiusure però ha dato quella boccata di ossigeno per certe imprese di almeno respirare un po' per superare le chiusure che sarebbero state in autunno siamo in chiusura devo farle però ancora due piccole domande primo se il rapporto con l'opposizione in questi cinque anni se è stato un rapporto positivo se anche perché è stata forse la prima volta che vi siete trovati a governare nel suo caso se ha trovato un'intesa insomma se c'è stato dialogo o se aspettava qualcosa di diverso no ma il dialogo c'è stato su alcuni temi su altri c'è stato anche uno scontro reputo delle volte però c'è sempre stato un dialogo costruttivo come dire uno scontro anche non offensivo come ha detto per la maggioranza sì per la maggioranza delle volte sì in alcuni casi c'è qualcuno qualche singolo che secondo me penso anche durante la pandemia ha utilizzato dei modi per attaccare l'amministrazione regionale decisamente fuori luogo non opportuni e poi anche molto lontani dalla realtà ma detto questo penso che in linea di massima sono soddisfatto mi aspetto ovviamente una campagna elettorale accesa però se mi permette voglio rilanzare la maggioranza del consiglio regionale perché i consiglieri di maggioranza in realtà sono stati anche dentro di difficoltà ed era molto stress avevano una pressione enorme sono stati preparati sono stati propositivi hanno fatto leggi importanti la maggioranza e il consiglio in questa legislatura e penso che sia riuscito a valorizzarsi molto di più rispetto a consigliature e pensate oggi però aveva un consiglio regionale attrazione leghista i sondaggi dicono anche le ultime elezioni dicono che Fratelli d'Italia è cresciuta molto chiaramente la partita nazionale regionale e comunale sono tre tre sport diversi praticamente però sondaggio alla mano lei si presenterà con la Lega con Fratelli d'Italia con la lista del Presidente che racchiuderà probabilmente anche Progetto FVG Forza Italia non si sa se è nella lista del Presidente o si presenterà col simbolo insomma si sta costruendo questa alleanza c'è il timore magari di trovarsi un consiglio regionale attrazione Fratelli d'Italia o oramai c'è un rapporto così consolidato che io sono il Presidente di una coalizione vengo dalla Lega faccio parte orgogliosamente della mia forza politica della Lega ma quando uno è presente in regione è il Presidente di una coalizione non di un partito e quindi è fondamentale secondo me che la coalizione mi auguro abbia un ottimo risultato ma non mi preoccupa se ci saranno due consiglieri in più di uno dell'altro poi ovviamente i risultati si vedono a elezioni avvenute fare previsioni è un po' problematico però io sono molto contento della mia coalizione perché devo dire che ha sempre lavorato in modo coeso e compatto quindi non mi preoccupano se una scenda o una sala è importante che la coalizione sia forte in caso di vittoria legge elettorale e province elettive e famiglia e lavoro saranno questi quattro focus e anche investimenti io ci credo molto penso che sia cambiato totalmente avete portato BAT si lavora la Valle dell'Idrogeno si lavora si ma moltissimi investimenti sono aumentati soltanto agenzie lavoro e sviluppo imprese aumentato del 130% i dossier trattati e sono delle imprese solo più grandi la collaborazione con Novartis ci sono tantissimi però è quello che dobbiamo potenziare c'è un'opportunità dentro le difficoltà globale della guerra delle tensioni è cambiato il mondo geopoliticamente è cambiato il mondo l'Occidente deve rafforzarsi le democrazie occidentali non soltanto nei rapporti istituzionali che sono fondamentali ma anche nei rapporti tra territorio e territorio tra impresa e impresa e le regioni possono svolgere un ruolo fondamentale e il friume e il 6 giugno ancora di più perché non guarda semplicemente al Friuli Venezia Giulia ma può essere centrale per il centro e sud Europa e quindi su questo io ci credo moltissimo e penso che possano svilupparsi come si sono già sviluppati grandi opportunità di lavoro e di crescita per la regione ovviamente si rappresenterà le elezioni vuole fare gli auguri io però le strappo una promessa verrà a trovarci più spesso anche tra i friuli anche voi potete venire noi ci vediamo tutti i giorni praticamente no ma anche per fare interviste più lunghe no vi ringrazio io auguro a tutti i vostri telespettatori e cittadini della regione i migliori auguri per un santo natale e un 2023 non privo di difficoltà perché sereno ma posso dire io pensare che non ci siano problemi è un'illusione nella vita in una comunità i problemi ci sono però gli auguro mi auguro che nel 2023 potremmo continuare come Nuni mi hanno dimostrato in questi anni di avere la capacità di superare questi problemi perché ci saranno ma di superarli insieme di avere le spalle larghe per superarli e per tramutare questi problemi in opportunità questo è quello che siamo riusciti a fare in questi cinque anni e i problemi sono stati enormi mi auguro che la comunità regionale e parlo siamo riusciti non come giunta ma come sistema delle regioni mi auguro che la giunta abbia dato il suo contributo ma mi auguro che potremmo sempre mantenere questa grande capacità che contraddistingue la nostra regione Presidente grazie mille allora vorremmo a stalkerizzarla più spesso ci conto in piazza dell'Unità d'Italia e ovviamente a tutti i telespettatori buon Natale e buon proseguimento di serata con i programmi di Telefriuli a tutti i miei the the Grazie a tutti.